L'Erua Merlin presenta soluzioni per il tuo terrazzo. Dai, vai a sederti. Ci sono tavoli piccoli. Luca, dai, vieni. E tavoli che possono diventare grandi. Da noi trovi tutto quello che ti serve per arredare i tuoi spazi esterni. Consegna domicilio a partire da 9,90€. L'Erua Merlin. Voglia di fare casa.